la prova dell'eroe ecco questo è uno di quei livelli che non sono mai riuscito a completare al 100% perché non mi ricordavo mai quale dei due ah no aspetta qual è questo è quello della corsa aspetta eh si non mi ricordavo mai dove cavolo fossero tutti gli oggetti no ecco esatto ma vaffanculo questo è uno di quei livelli che purtroppo non sono mai riuscito a completare al 100% perché non mi ricordavo mai in quale percorso fossero gli oggetti vasi ecco appunto guarda se non ci crepo aspetta vai però mi ricordo e va a cagare delle scarpe le scarpe me le ricordavo benissimo forse se tutto va bene fermo e che cazzo riusciamo a prendere almeno le lettere se abbiamo preso il percorso giusto ecco qua siamo già a tre lettere aspetta eh che cavolo no eh vabbè ciao mmmm dio mio faccio così schifo in sto percorso niente male ragazzo io ho i traumi da bambino di sto gioco eh che non riuscivo mai a completarlo al 100% e ce l'ho ancora qua eh e niente troppo lontano quindi niente vasi aia e come faccio a evitarli tutti che 200 cacchio di sassi comunque davvero i modelli 3d fighissimi i modelli disegno purtroppo è qua niente male ragazzo non è proprio quello che avevo in mente ma è niente male ok ci mancano tre lettere forse ce la facciamo dicevo i modelli 3d ottimi perché comunque il modello 3d è fatto bene il disegno purtroppo poco si può fare capisco che l'emulatore faccia già tantissimo ma non può fare certo miracoli eh vabbè vediamo se riusciamo a proseguire adesso senza crepare occhio al sacchetto più che altro la mia vera difficoltà in questo titolo è sempre in questo percorso in questi percorsi perché ci sono più di uno è sempre stata la profondità non capivo mai quando una cosa mi avrebbe colpito o meno vai 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 ci manca solo una lettera eccola lì ecco fatto bon tutte le lettere le abbiamo perfetto prendiamo la babbata eccoci qua e ora via via sul masso gigante troppo tardi calmo vai a posto quelle caprette che mi seguono sulla cima bellissimo è davvero un grandissimo titolo questo purtroppo faccio schifo io e non lo nego però almeno tutte le lettere le abbiamo prese almeno quello sono sono contento vediamo beh pensavo molto peggio pensavo molto peggio le monete prestazione eroe grazie a tutti